Ilari Blasi figli, parla Totti, non li lasciamo sempre all'etate Ilari Blasi e Totti figli, che genitori sono la conduttrice e l'ex calciatore. Ilari e Totti sono due genitori presenti e affettuosi per i tre figli Cristian, Chanel e Isabelle. A farlo sapere Francesco, l'ex calciatore oggi dirigente della Roma. L'attaccante ha rivelato in un'intervista concessa al Corriere della Sera che insieme alla moglie cerca di seguire il più possibile i tre bambini che, nonostante la popolarità, stanno crescendo sereni e spensierati. Lo sportivo ha rivelato che è un papà molto presente, soprattutto ora che ha smesso di giocare. . Pure Ilari è una mamma attenta e premurosa per i suoi tre cuccioli e fa il possibile per conciliare la vita privata e gli impegni professionali, che sono aumentati esponenzialmente nell'ultimo periodo grazie al successo del grande fratello Vip. . . Totti è un papà presente per i tre figli insieme alla moglie Ilari. Chi sta più dietro ha i figli? Tutti e due. . Anche troppo. . Non li lasciamo sempre alletati. . Li portiamo a fare sport tutti i giorni ha confessato Francesco Totti. . E a proposito di sport, che chi già parla del piccolo Christian che oggi ha 12 anni come del futuro nuovo capitano della Roma. . Ma per il momento il padre ci va con i piedi di piombo, gli insegno quello che mi hanno insegnato i miei genitori, rispetto, educazione. . Certo, ha questo cognome pesante. . Gioca e la gente spera che io vada a vederlo. . Lo lascio fare, non gli dico niente. . Tra tre o quattro anni vedrò di che stoffa è fatto veramente. . Christian ha già stoffa da vendere, così come la sorella Chanel che ha 11 anni è la regina del telecomando in casa Totti. . Se devo guardare la partita vado in un'altra stanza perché alla fine ha sempre ragione la donna, anche se in casa i pantaloni li porta l'uomo. . In alcune case, almeno. . Però, per non discutere e ha raccontato il marito di Ilari Blasi. . Ilari Blasi e Francesco Totti, il quarto figlio non è escluso. . Ha due anni dall'arrivo della terzo genita Isabel, che chi parla di una probabile quarta gravidanza per Ilari Blasi. . Una probabilità che la coppia non ha escluso nell'ultimo periodo. . . . Christian e Chanel, mi dicono, ma mamma lasci sola Isabel? Noi siamo cresciuti insieme, e lei? A me la parola basta non piace, ma quattro figli sono un impegno che fa paura. . 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